Benvenuti con la dottoressa Lara Milan, fondatrice di SEM Italy, dottore di ricerca in psicologia, neuroscienze e statistica medica, specialist in gifted and talented education. Benvenuti alla dottoressa. Buongiorno, grazie. Ecco, prendiamo spunto dal libro che lei ha pubblicato con Ericsson recentemente quest'anno sullo sviluppo del talento dell'alto potenziale. Professoressa Milan, anche in Italia da alcuni anni si inizia a parlare di plus dotazione cognitiva. Per comprendere meglio, ci aiuto a capire quali sono le caratteristiche dei ragazzi con alto potenziale e perché parliamo di ragazzi gifted, twice exceptional and gifted and achiever? Sì, la panoramica di queste tematiche ovviamente è molto ampia. Gli studenti gifted, gli studenti plus dotati, sono studenti che hanno una dotazione cognitiva di sopra della media, ma sarebbe riduttivo definirli così perché hanno un insieme molto variegato di caratteristiche che impedisce di delineare lo studente gifted in così pochi aggettivi. In realtà la visione psicometrica dell'intelligenza che reputa che gli studenti gifted rappresentano il 2% della popolazione è una visione che è un po' superata nel contesto internazionale, in quanto da molti anni ormai si tende a parlare piuttosto di valorizzazione della neurodiversità, aderendo aderendo ad un movimento che per quanto mi riguarda rappresenta veramente una visione più allargata della giftedness che ci porta a considerare le potenzialità manifeste o inespresse di tutti gli studenti. Ciò non toglie che in Italia in particolar modo i bisogni educativi speciali degli studenti gifted non siano stati attenzionati. Sono bisogni educativi speciali che sono stati solo recentemente in parte riconosciuti dal MIUR, ma in una nota che afferisce al mondo dei DSA, in quanto la nota 562 del 3 aprile 2019 prevede l'eventuale predisposizione di un PDP per plus dotati qualora si manifestino gravi disagi. La nota, seppur tardiva, fa una piccola missione per lo meno dell'esistenza degli studenti plus dotati, ma sicuramente c'è un vuoto normativo che dovrebbe essere colmato affinché anche i docenti abbiano gli strumenti operativi per comprendere come meglio supportare e valorizzare i doni e i talenti di questi studenti, così come di tutti gli altri studenti, in un'ottica che noi speriamo possa essere inclusiva. Ecco, professoressa, esistono diversi approcci pedagogici della Gifted Entenheim Education. In particolare si parla di accelerazioni, arricchimento e differenziazione. Ci spiega in cosa differiscono? Nella storia della Gifted Entenheim Education diciamo che queste sono le tre principali scuole di pensiero che si sono delineate negli ultimi 50 anni. Inizialmente si riteneva che l'accelerazione fosse la risposta univoca da dare specialmente agli studenti gifted e highly gifted, quindi con un altissimo potenziale cognitivo, in quanto si riteneva che il loro ritmo di apprendimento fosse così veloce rispetto al gruppo classe che diverse forme di accelerazione fossero la soluzione ottimale per rispondere ai loro bisogni educativi speciali. In realtà questa strategia ha sicuramente delle ottime ricadute, ma non può essere considerata l'unica soluzione, anche perché alcuni docenti sostengono che un'accelerazione, quindi una progressione ad un ritmo più alto rispetto ai coetanei potrebbe anche comportare per esempio dei problemi socio-relazionali, in quanto il bambino viene fatto progredire in ordini e gradi di studio avanzati e quindi può avere una dotazione cognitiva che gli permette di accedere e raggiungere obiettivi di apprendimento avanzati, ma potrebbe non avere un bagaglio emotivo tale da poter relazionarsi con studenti molto più grandi. Negli anni, a partire poi dagli anni 90, si è delineata la grande opportunità offerta dell'attività di arricchimento. L'arricchimento comporta uno studio più approfondito e più probabilmente personalizzato di contenuti rispetto al, diciamo, curriculum generale. La visione tra accelerazione e arricchimento è stata vissuta per alcuni decenni come una visione dicotomica, per cui o si propendeva per l'accelerazione o si propendeva per l'arricchimento. Fortunatamente, a partire dagli anni 90, questa visione dualistica è stata ampiamente superata, in quanto qualsiasi approccio pedagogico per rispondere ai bisogni educativi speciali di questi studenti particolari dovrebbe comprendere sia attività di accelerazione che di arricchimento. Non ultima, la strategia didattica della differenziazione, che in Italia noi conosciamo molto bene, grazie anche ai libri che sono stati pubblicati da Caroline Tomlinson in italiano, ma che purtroppo, per qualche motivo, non spesso, almeno non d'abitudine, decliniamo per gli studenti gifted. Ecco, questi tre diversi approcci oggigiorno rappresentano le tre principali strategie da utilizzare con gli studenti ad alto o altissimo potenziale intellettivo. Ci sono modelli che hanno fatto di queste diverse visioni la loro base di ricerca. Ecco, il modello SEM è un modello che in realtà è denotato da una forte base di arricchimento, componenti specifici di accelerazione e una grande dose di differenziazione. Ecco perché il modello SEM sembra essere uno dei, e forse l'unico modello veramente comprensivo di tutte quelle scuole di pensiero che hanno dimostrato nel corso degli anni di avere delle ricadute positive sulla formazione degli studenti. Ecco, lei parlava di SEM. Lei ha fondato in Italia SEM Italy, che è l'acronimo di The Schoolwide Enrichment Model. Modello di Arricchimento Scolastico, che si basa appunto su un modello sviluppato a metà degli anni 70 dai professori Renzulli e Reyes, di cui lei è coattrice del volume Modello di Arricchimento Scolastico. Ecco, appunto diceva questo modello, però se non sbaglio questo modello non si applica esclusivamente al ragazzo plusdotato, ma tutto il gruppo classe, ci spiega meglio questo particolare? Sì, come dicevo all'inizio, la visione psicometrica dell'intelligenza che ci porterebbe a utilizzare strategie e modelli solo per il 2% della popolazione scolastica, è una visione dal nostro punto di vista un po' troppo elittaria. In realtà la Gifted and Talented Education ha maturato nel corso degli anni degli approcci che potrebbero sicuramente sarebbe utile anche utilizzare per l'intero gruppo classe. Ecco che allora noi abbiamo aderito a quello che internazionalmente si chiama il movimento dello sviluppo del talento e del potenziale, che al di là del riconoscimento di una plusdotazione, indirizza il proprio agire educativo, non solo agli studenti che hanno una valutazione di alto potenziale o di plusdotazione, ma all'intero gruppo classe. Riteniamo infatti, specialmente in Italia, dove non c'è una valutazione sistematica di tutti gli studenti, del loro quoziente intellettivo a ogni anno scolastico, per cui sono pochissime le famiglie che hanno intrapreso un percorso, un iter valutativo per il proprio figlio. E sappiamo anche che in un'ottica di equità sociale, non tutte le famiglie potrebbero affrontare i costi ingenti di una valutazione. Ecco allora che specialmente in Italia il modello SEM ha, secondo me, una sua applicabilità e una sua capacità di rendere il nostro intervento indirizzandolo a tutti gli studenti, in particolar modo agli studenti gifted, ma non solo. Il modello SEM è anche in grado di riconvertire il processo di sottorrendimento scolastico a cui gli studenti gifted underachievers purtroppo vanno incontro, ma si pensi, il modello SEM è anche in grado di farsi carico dei bisogni educativi speciali degli studenti doppiamente eccezionali, conosciuti appunto come twice exceptional, cioè di quegli studenti che da un lato possono avere una difficoltà di apprendimento, ma dall'altro possono anche avere contemporaneamente un alto potenziale. Ecco, in particolar modo questa tematica andrebbe attenzionata in quanto noi spesso e volentieri abbiamo quest'occhio di riguardo per gli studenti di S.A., ma li vediamo attraverso la lente del rimedio, cioè attraverso azioni che vadano a supportare e compensare le loro difficoltà di apprendimento. Sarebbe bello invece, magari in un incontro futuro, poter invece parlare di come la didattica dello sviluppo del talento e del potenziale potrebbe permetterci di adottare una lente diversa attraverso la quale guardare i nostri studenti di S.A., andando a potenziare aree di forza che non farebbero sicuramente scomparire la loro facilità, ma potrebbero comunque far leggere la propria anche identità attraverso piuttosto una lente del potenziale. Ecco, il modello SEM è in grado di farsi carico di tutte queste esigenze, è per quello che il modello SEM è considerato a livello internazionale un modello veramente inclusivo. Professoressa, un aspetto importante è lo sviluppo emotivo e sociale. Voi anticipate quello che il Parlamento italiano sta provando a valorizzare già da quest'anno scolastico, ovvero le competenze non cognitivi. Ci spiega l'importanza di questo approccio pedagogico? Sì, in particolar modo il SEM ha all'interno proprio dei moduli che vanno a sviluppare quelle che noi chiamiamo le competenze del ventunesimo secolo e tutte quelle abilità socio-relazionali che il mondo del lavoro oggi ci chiede. In particolar modo anche tutte quelle abilità di pensiero critico, pensiero creativo e divergente che il mondo del lavoro considera di primaria importanza. Il modello SEM in particolar modo è in grado veramente di creare situazioni di apprendimento in cui gli studenti imparano a interagire tra di loro, simulando in qualche modo quelle che sono le modalità che incontriamo nella vita reale, quindi sottoponendo loro dei problemi della vita reale che in modo autonomo e autogestito devono risolvere mettendo in gioco non solo le loro abilità cognitive che naturalmente vengono chiamate a risolvere appunto in modo creativo i problemi che affrontano, ma anche a tutte quelle abilità sociali e relazionali in attività di gruppo guidate da un mentore, un mentore, un esperto esterno che viene chiamato dalla scuola per portare all'interno di queste attività di arricchimento non solo la sua passione per l'argomento e per la professione, ma anche tutti quegli strumenti, quelle competenze che vengono utilizzate nel mondo reale. Ecco che all'interno di questi cluster di arricchimento, così si chiamano nel modello SEM, le attività non vengono assegnate in base a un quoziente intellettivo. All'interno di questi gruppi di lavoro, che sono gruppi di interesse, non di età anagrafica, vengono messe in campo una serie di abilità, tra cui la leadership, le capacità di addivenire una soluzione condivisa, le capacità di mediazione, che questi studenti devono saper dimostrare per arrivare alla produzione di un prodotto o di un servizio reale, quindi non da presentare all'interno di una preparazione di un powerpoint per la classe o di una recita di fine anno, quanto piuttosto una soluzione innovativa che vada a in qualche modo intercettare e soddisfare un bisogno della comunità. Ecco, con la stessa, chiudiamo con un'ottima domanda. Spesso nelle nostre scuole a prevalere è un pensiero omologato, dove ad uscire dal binario si viene penalizzato. Quando è importante invece valorizzare il pensiero divergente e quali benefici potremmo avere per gli studenti e per la società in generale? Io credo che le potenzialità individuali vadano sempre comunque riconosciute, perché fa parte del riconoscimento dell'individualità e della persona. Sicuramente attraverso un percorso di consapevolezza, di possibilità di misurarsi in attività che siano non prettamente curricolari, ma che siano trasversali, andremo a scoprire come dei talent scout, andremo a scoprire doni e talenti nei bambini che magari non pertengono necessariamente alle materie curricolari, ma che potrebbero permettere a questi bambini di scoprire aree di forza sulle quali potrebbero non solo costruire magari la loro carriera scolastica, ma che potrebbero addirittura diventare dei progetti di vita. Ecco, probabilmente questa forma di orientamento che comincia dalla scuola primaria con il SEM e che accompagna lo studente attraverso tutto il suo escursus scolastico, sarebbe una forma di conoscenza di sé che va al di là di quelle che sono magari le proiezioni che i genitori possono fare sui propri figli, oppure le visioni che man mano i docenti possono avere sullo studente. Attraverso questa forma di consapevolezza lo studente probabilmente potrà realizzarsi appieno e diventare una figura che contribuirà attivamente alla promozione della ricerca, della conoscenza nel suo ambito di eccellenza. Attraverso il SEM noi maturiamo una consapevolezza che accompagna lo studente anche dopo la scelta della università e permette loro di fare una scelta di professione che probabilmente ci permetterà di avere magari meno avvocati frustrati, meno medici scontenti, meno professionisti che hanno fatto una scelta in base anche alle volte a delle forti suggestioni che arrivano dalle famiglie oppure dal mondo del lavoro, ma saranno sicuramente delle persone realizzate perché fanno quello non solo che li appassiona, ma anche quello in cui hanno dimostrato a loro stessi innanzitutto di avere delle straordinarie abilità. Ecco, l'auspicio è proprio che questa scelta di vita e di carriera diventi la chiara espressione di una conoscenza così approfondita di sé da poter mettere a frutto i propri doni e i propri talenti. Grazie dottoressa Miran per essere stata con noi. Grazie a lei.